Ciao a tutti amici di Vanilla. Una serie di sventure inaugurata nel 1941 e che ancora oggi non trova conclusione. Ottanta lunghi anni di tragedie che hanno indotto la stampa di tutto il mondo a parlare di una maledizione. È la maledizione dei Kennedy, una delle famiglie più importanti d'America. Per spiegare la loro vicenda andiamo con ordine e partiamo da principio. I Kennedy sono una famiglia di origini irlandesi, provenienti dalla cittadina di New Ross, 150 chilometri a sud di Dublino. Il capostipite della famiglia viene identificato in Patrick Kennedy, nato a Dungenstown nel 1823 da James Kennedy, un semplice contadino di religione cattolica. Patrick ha 26 anni quando, come altre migliaia di irlandesi, in un periodo terribile di difficoltà e carestia emigra negli Stati Uniti stabilendosi a East Boston, nel Massachusetts. Qui convola a nozze con la fidanzata Bridget Murphy, con la quale concepisce cinque figli. L'ultimo, nato nel 1858, è Patrick Joseph. Patrick Kennedy Senior morirà di colera il 22 novembre dello stesso anno, nella stessa morte che era toccata due anni prima al figlio John, deceduto a pochi mesi dalla nascita. Patrick Joseph Kennedy Junior, nato su suolo statunitense, una volta intrapresa la carriera politica tra le fila dei democratici, sposa nel 1887 Mary Augusta Heike, dalla quale avrà quattro figli. Il primo genito è Joseph Patrick Kennedy, che nasce nel 1888, padre del futuro presidente degli Stati Uniti d'America John Fitzgerald Kennedy. Il celebre assassino di John Kennedy a Dallas il 22 novembre del 1963, curiosamente lo stesso giorno della morte del bisnonno Patrick Joseph Kennedy, per mano dell'ex Marine Lee Harry Oswald, è sicuramente uno tra i principali e luttuosi eventi che hanno contribuito alla nascita della leggenda sulla maledizione dei Kennedy, ma non è il primo. Molti altri funesti avvenimenti, infatti, avevano cominciato a colpire la stirpe già dal 1941. Nel novembre di quell'anno, Joseph Patrick Kennedy, padre di JFK, decide di sottoporre la figlia Rosemary a una lobotomia per curare quello che appare un lieve disturbo di personalità. L'intervento crea soltanto danni e la donna, morta poi nel 2005, vivrà il resto della sua vita in una struttura psichiatrica accompagnata da invalidanti e terribili problemi mentali e fisici. Si passa poi al 1944. La Seconda Guerra Mondiale si avvia lentamente alla sua conclusione. Il 12 agosto Joseph Patrick Kennedy Jr., fratello maggiore del futuro capo di Stato, è a bordo di un aeroplano BQ-8 per un'esercitazione. A causa di un malfunzionamento ai circuiti di ricezione radio, si innesca improvvisamente un detonatore che porta all'esplosione del tritolo ospitato sull'aeroplano. Il velivolo si disintegra in aria e con esso, ovviamente, anche l'aviatore e tutto l'equipaggio. Si passa poi al 13 maggio 1948. Kathleen Agnes Kennedy, 28 anni, sorella minore di Joseph Patrick Jr. e John Fitzgerald, muore a seguito di un incidente aereo nei cieli di Saint-Bosile, nel sud della Francia. Nel 1944 aveva sposato William Cavendish, marchese di Hartington, morto in guerra pochi mesi dopo le nozze nei pressi di Bruxelles. Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Cominciano a prendere forma i contorni di un superstizioso maleficio che flagella la famiglia Kennedy. Contorni che diventeranno sempre più netti col passare del tempo. Le tragedie proseguono senza soluzione di continuità, anche quando i Kennedy iniziano a diventare famosi nel vecchio continente. Il 3 ottobre 1955, George Kekel e Han Branick, genitori di Ethel, moglie di Robert Francis Kennedy, settimo figlio di Joseph Patrick Kennedy, sono vittime di un nuovo incidente aereo in Oklahoma. John Fitzgerald Kennedy è diventato il 35esimo presidente degli Stati Uniti, il giuramento del primo presidente cattolico della storia statunitense a luogo il 20 gennaio 1961, quando un altro celebre evento rafforza le voci sulla maledizione della famiglia. Il 5 agosto 1962 il mondo è sconvolto dall'improvviso decesso dell'attrice Marilyn Monroe al secolo Norma Jean Mortison Baker Monroe, amica e amante del presidente in carica e di suo fratello Robert Francis. La morte dell'icona cinematografica, definita da Marlene Dietrich il primo vero sex symbol della storia, sarebbe dovuta a una overdose di barbiturici, ma il tragico evento attirerà sui Kennedy numerose congetture di un coinvolgimento dovuto a possibili ricatti che la giovane attrice avrebbe loro rivolti. Riguardo questa storia, fatemi aprire una piccola parentesi, perché penso sia importante per capire quanto a volte le immagini false siano in grado di influenzare il nostro giudizio. Tutti noi abbiamo visto questa fotografia, nella quale Marilyn è in primo piano e alle spalle c'è John Fitzgerald, che sembra un'ombra che le alita sul collo. Bene, questa immagine in realtà è un falso. L'unica fotografia che ritrae Robert Kennedy e la Monroe insieme è quest'altra, scattata dal fotografo ufficiale di JFK alla Casa Bianca, Cecil Stoughton, durante le celebrazioni del 45esimo compleanno di Kennedy, poco prima di dirigersi al Madison Square Garden, dove la Monroe avrebbe dedicato al presidente il celebre motivetto Happy Birthday Mr. President. È solo un dettaglio, ma tutte le congetture sulla morte dell'attrice sono frutto anche di falsi storici, come questo. E passiamo al 1963, il peggior anno per i Kennedy. Il 9 agosto i coniugi John Fitzgerald e Jacqueline Bouvier, sposati da dieci anni, sono colpiti da un lutto privatissimo. Muore, due giorni dopo la nascita, il quarto genito, Patrick. Malattia delle membrane hialine è il risponso del medico. La coppia presidenziale aveva già pianto la perdita di un'erede, Arabella, nata morta nel 1956. L'epoca della presidenza di John Fitzgerald Kennedy è segnata dalla guerra fredda tra Stati Uniti d'America e Unione Sovietica, dal conflitto in Vietnam già esploso nel 1955, ma anche dalle tensioni con la Cuba di Fidel Castro che l'America tenta di invadere in modo fallimentare nell'aprile del 61, quando si consuma il famoso episodio dell'attacco alla Baia dei Porci. JFK è intenzionato a sconfiggere alcuni dei più grandi temici dell'uomo, la tirannia, la povertà, le malattie e la guerra, a far crescere il programma spaziale statunitense e a far promulgare leggi contro la discriminazione razziale, ma i suoi progetti sono cancellati con l'assassinio di Dallas del 22 novembre del 1963. Quattro colpi di fucile che segneranno per sempre la storia d'America e della chiacchierata famiglia Kennedy, che negli anni seguenti sarà ancora al centro di nuovi drammi. Il 19 giugno del 1964, Ted Kennedy, fratello di JFK e ultimo genito di Joseph, Patrick Kennedy, riesce a uscire vivo da un nuovo incidente aereo in cui muoiono un suo collaboratore e il pilota. Dopo la lunga degenza per recuperare dalle ferite riportate, Ted sosterrà senza remore la famosa frase, a qualcuno lassù non piacciamo. Non soltanto di Kennedy, ma anche chi ha avuto a che fare con loro. Il 12 ottobre del 1964, giorno del Columbus Day, Mary Pinchot Meyer, una delle tante ex amanti del defunto presidente Kennedy, muore in circostanze mai del tutto chiarite. Si parla anche in questo caso di omicidio. Nel 1968 Robert Francis Kennedy, già senatore per lo Stato di New York e procuratore generale degli Stati Uniti durante la presidenza del fratello, dichiara il suo intento di correre alle elezioni presidenziali. Partecipa alle elezioni primarie del Partito Democratico, vincendo in Indiana, Nebraska, California e South Dakota, ma la sua corsa alla Casa Bianca viene fermata la notte stessa della vittoria alle primarie, il 5 giugno 1968, quando viene assassinato a colpi di revolver all'interno dell'ambassador Hotel di Los Angeles dall'immigrato di origine giordano-palestinese Sirhan Bishara Sirhan. Le incongruenze emerse durante l'autopsia e il seguente processo hanno fatto nascere, nel corso degli anni, come per la morte del fratello maggiore John Fitzgerald, alcune teorie che, secondo i complottisti, avrebbero portato all'eliminazione del candidato presidente. La maledizione dei Kennedy non cesserà di manifestarsi anche dopo i due eclatanti omicidi. È il 18 luglio 1969 e Ted Kennedy, già scampato all'incidente aereo del 64, cade giù da un ponte a bordo di un'automobile. Riuscirà a uscirne vivo ancora una volta, ma l'incidente, passato alla storia come l'incidente di Chapaquiddick, provocherà la morte della passeggera, la giovane Mary Joko Penki. Ted Kennedy, segnatore per il Massachusetts dal 62, sarà accusato di omissione di soccorso e condannato a due mesi di carcere, poi sospesi. La moglie, John Bennett, a causa della tragedia e del pesante strascico giudiziario, subirà un aborto. La maledizione, che più che un sospetto sembra costituire una realtà concreta per i membri della famiglia, colpisce, come abbiamo avuto già modo di notare, anche chi è collegato soltanto in maniera indiretta alla casata. Il 23 gennaio del 1973, il 24enne, Alexander Onassis, primogenito di Aristotele, il ricchissimo armatore greco, unitosi nel 1968 in seconde nozze con Jacqueline Bouvier, vedola di JFK, muore a causa di uno schianto aereo nei cieli di Atene. Nel novembre dello stesso anno è il figlio di Ted Kennedy a essere colpito dalla sventura. Edward Junior, all'epoca dodicenne, è costretto all'amputazione della gamba sinistra per un tumore. Passa un decennio di quiete, e il 25 aprile del 1984 un nuovo lutto colpisce Kennedy. David Anthony, 29 anni, quarto degli undici figli di Bob Kennedy e sua moglie Ethel, viene trovato morto in un albergo a Palm Beach, in Florida. Tossicodipendente da quando la sua fidanzata era rimasta paralizzata a seguito di un incidente automobilistico era il 1973, il decesso di David Anthony Kennedy è attribuito a una overdose di cocaina. Il matrimonio della ex first lady Jacqueline con Onassis, intanto, è finito a causa della scomparsa del magnate greco nel 1975, ma la sfortuna si accanisce contro gli Onassis con la morte di Cristina. La secondogenita di Aristotele Onassis, 37 anni, da tempo depressa, muore per edema polmonare il 19 novembre del 1988. I medici diranno che il malore dell'ereditiera fu provocato dall'abuso di droghe e farmaci. L'ultimo giorno dell'anno 1997 sarà ancora nero per i Kennedy e la famiglia del defunto Bob. Michael Lemoine, sesto figlio del candidato alla Casa Bianca, assassinato nel 1968, muore a causa di un incidente sciistico sulle piste di Aspen, in Colorado. Aveva 39 anni. Dopo una lunga pausa, un nuovo terribile incidente aereo si abbatte sulla famiglia americana. È il 16 luglio del 1999, quando a perdere la vita è John Fitzgerald Kennedy Junior, chiamato anche John John, terzo figlio di JFK e Jackie. L'uomo, 38 anni al momento dell'eccesso, è alla guida del suo Piper Saratoga quando il velivolo precipita nelle acque dell'Atlantico. Insieme a John John muoiono la moglie Caroline e la cognata Lauren Bassett. Erano tutti diretti a Martha's Vineyard, dove si sarebbero svolte le nozze della cugina Rory Kennedy. La sequela di tragedie non si arresta col nuovo millennio. È il 16 maggio del 2012, quando a Bedford, nello stato di New York, viene rinvenuto il corpo di Mary Richardson, ex moglie di Robert Francis Kennedy Jr., terzo figlio di Bob Kennedy, e fratello degli sventurati David Anthony e Michael Lemoyne. La donna si toglie la vita nella sua villa. Da anni lottava contro depressione e alcolismo. Il 1 agosto 2019, un letale mix di alcol e droga porta al decesso della giovane Sears Arishin, figlia di Courtney, quinta figlia di Bob Kennedy, mentre il 2 aprile 2020 si consuma l'ultima tragedia, almeno fino a oggi. Muore Mia Fai, 40 anni, figlia di Kathleen, primogenita del candidato presidente ucciso nel 68, e di Ethel, e già governatore del Maryland, e suo figlio Gideon, di soli 8 anni. I due muoiono annegati nella baia di Cisapic nel tentativo di recuperare un pallone a bordo di una canoa. Omicidi, suicidi, incidenti aerei, ben dieci decessi, sono avvenuti fra i cieli e malattie, per una lunga scia di morti violente e improvvise disgrazie, che forse convincerebbe anche i più scettici sulla reale esistenza di una maledizione. Una lunghissima serie di sciagure, rinnovata di generazione in generazione, che ha colpito una delle famiglie più importanti degli Stati Uniti d'America e che ha segnato la storia di questi ultimi 80 anni.